Good morning a tutti voi e buona giornata. Siamo al capitolo 9 di Marco, ai versetti 41 e seguenti. Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome, perché siete di Cristo, in verità, io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Un bicchiere d'acqua, eh? Quindi, veramente Gesù ha una forza incredibile e noi spesso pensiamo, non so se lo pensiamo, ma io ve lo dico, che seguire Cristo sia complicato e impegnativo e domanda la nostra responsabilità. È vero, questo è vero, è verissimo. Però poi Gesù ha degli squarci di cielo in cui dice un bicchiere d'acqua, un bicchiere d'acqua, un aiuto, una mano, una parola, una possibilità. Sono per te l'apertura al regno di Dio. Se oggi hai un bicchiere d'acqua da dare a qualcuno, riempilo questo bicchiere. Se oggi hai una mano da dare a qualcuno, dalla. Se oggi hai una parola da dire a qualcuno, dilla. Perché nelle cose piccole si manifesta il regno di Dio e si manifesta anche la tua sequela. Questo è grandioso, eh? E poi ci sono altre parole. Chi scandalizzerà? Uno solo di questi piccoli, che credono in me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare. Guai. Guai nel momento in cui scandalizziamo i piccoli, i poveri. Ma guai nel momento in cui come Chiesa scandalizziamo ogni essere umano. E lo sappiamo, l'abbiamo fatto, lo facciamo. E questa è una cosa bella tosta, eh? Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala. È meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché con le due mani andare nella genna, nel fuoco. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo. È meglio per te entrare nella vita con un piede solo, anziché con i due piedi essere gettato nella genna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via. È meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella genna. Dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue. È molto, come dire, libero Gesù ed è anche molto, come dire, ci chiede tanto. Ci chiede qualcosa di semplice, un bicchiere d'acqua. Ma ci chiede di non scandalizzare gli esseri umani come comunità, come Chiesa. E come singoli cristiani, eh, non diamo sempre la colpa al Vaticano, alla gerarchia e a tutto quanto. Noi, io, posso essere un motivo di scandalo per la vita che conduco verso le persone che sono accanto a me. E questa è una cosa gravissima. E Gesù la dice. Perché nel bene e nel male, come possiamo dire, Gesù non ha peli sulla lingua. Il Vangelo è a portata delle nostre mani, della nostra volontà, della nostra libertà. È impegnativo ed è l'avventura più bella della vita. Però è impegnativo, eh. Non ci nascondiamo. E poi conclude Gesù. Ognuno, infatti, sarà salato con il fuoco. Buona cosa è il sale, ma se il sale diventa insipido, con che cosa gli darete sapore? Abbiate sale in voi stessi e siate in pace gli uni con gli altri. Lo sappiamo. Gesù è misericordioso. Sempre. Sempre. Ma se non c'è la passione, se non c'è il sale, che sa di sale appunto, che dà sapore, ma che ci stiamo a fare noi in questo mondo? Che ci stiamo a fare a ascoltare il Vangelo, a ascoltare il commento del Vangelo, ad andare a Messa? Passione, passione. Non importa se sbagliamo. Ma l'importante è riuscire a provarci, a provarci. Oggi siamo sale. Diamo gusto a qualcuno. Dai. Le cose belle della giornata di ieri. Beh, direi soprattutto l'incontro con gli animatori. Sempre è difficile programmare, però stiamo programmando due weekend con i giovanissimi e quindi, insomma, ho già voglia di vivere questi due weekend. E poi mi sono messo lì nel pomeriggio a scrivere il progetto per la nostra casa di Argentera. Argentera, sapete, è un nostro luogo magico. Un progetto per raccimolare un po' di soldini, ecco, perché ne abbiamo bisogno, perché vogliamo ristrutturare, riqualificare la casa. E quindi quando si scrive, nei confronti ad esempio di un luogo del genere, insomma, chiaramente mi appassiono, ecco. Poi speriamo di arrivare al termine di questa cosa qua. Però l'intenzione c'è, la passione c'è, l'entusiasmo c'è, il sale c'è. Ale, buona giornata a tutti voi.